C'è anche il nome di Ignazio Visco tra quelli dei testimoni che potrebbero essere chiamati al processo per il crack di Banca Etruria. Il collegio giudicante del Tribunale di Arezzo ha ammesso nel corso dell'ultima udienza, prima della pausa estiva, i testi indicati dalle difese dei 25 imputati dalla Procura e dalle parti civili. Tra questi figura anche il governatore della Banca d'Italia, citato da Lorenza Calvanesi, avvocato che assiste a una delle parti civili. Accanto a lui Emanuele Gatti e Giordano Di Veglia, i due ispettori di Banca d'Italia che lavorano sui conti dell'ex Etruria. Citato anche il liquidatore della banca, Giuseppe Santoni. Spetterà proprio a lui aprire una lunga sfilata di testimoni il prossimo 20 settembre. Ci vorranno comunque almeno due o tre udienze per completare la sua audizione. Nel corso dell'ultima udienza, inoltre, è stata anche ultimata l'acquisizione delle fonti di prova. Tra queste c'è la relazione dello stesso commissario liquidatore.